Partono da alcune affinità il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier italiano Giuseppe Conte alla sua prima visita ufficiale a Washington. Trump ha già lodato Conte per le posizioni di Roma sull'immigrazione. Su diversi temi c'è intesa, dalle relazioni con la Russia ai trattati commerciali internazionali. Sul tavolo però ci sono tanti dossier sui quali i due adesso dovranno confrontarsi concretamente. Uno dei principali è il commercio. L'intesa tra Trump e Juncker c'è stata. Conte però vuole garanzie che per quanto riguarda i dazi gli interessi delle aziende italiane non verranno toccati. Si parlerà senz'altro anche della stabilizzazione della Libia e dell'area del Mediterraneo. La collaborazione nelle missioni internazionali, soprattutto in Afghanistan, e il dibattito sul futuro della Nato saranno altri punti centrali. Altro tema, scottante per l'Italia, è il gasdotto TAP. Gli Stati Uniti chiedono a Roma di completarlo. Il tema divide il governo, quindi Conte dovrà trovare una mediazione.